Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. Anche a questo cercheranno di dare una risposta ai carabinieri che stanno indagando su quanto avvenuto nelle prime ore di questa mattina nel porto di Molfetta. Un'auto è finita in mare all'altezza del molo San Corrado, poco lontano dal faro. A bordo un uomo di 48 anni che è morto affogato. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvarlo, tra di loro anche alcuni marinai del posto. Quando è stato raggiunto nelle acque giaride del porto, per lui non c'era già più nulla da fare. La tragedia si è verificata poco dopo le 8. Immediate le chiamate d'emergenza al 118 e alle forze dell'ordine da parte di quanti hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri assieme agli uomini della capitaneria, della polizia locale e militari della guardia di finanza. Con loro hanno raggiunto il porto anche due ambulanze e squadre dei vigili del fuoco, i cui sommozzatori hanno a lungo scandagliato l'intera zona. Complesse anche le operazioni di recupero del veicolo per via del mare torbido. Come detto, non sono ancora chiare le cause della tragedia. I militari sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Al momento non è esclusa nessuna pista. Non è la prima volta che simili episodi si verificano nel porto Molfettese. L'ultimo solo pochi mesi fa, nel settembre 2017, quando un'altra auto, una Fiat Punto, finì in mare all'altezza del Molo San Michele. Le due persone a bordo, un uomo e una donna, riuscirono ad uscire dal veicolo mettendosi in salvo con l'aiuto dell'equipaggio di un pescareccio. Grazie.